Poi mi dici tutto, però ti voglio dire, finché siamo a Roma, cioè poi tu dici che ne so, stavo a Campidoglio, no, top, stavo a Colli Portuenzi, non ha idea, cioè ha senso perché poi il bacino è molto largo e ci sono tante persone che possono comprendere. È un caso che ti ho portato a dire bacino largo in una puntata dove il ti... Io parlavo di utenza, e no ma cioè nel senso poi se invece vai nella campagna marchigiana, trova Camporella... Il rating delle regioni, dove ti dico i punti, le regioni che sono maggiormente addicte dalla Camporella e c'è anche le marche, è una chicca, sono una che non te la volevo dire, tu mi porti avanti, allora mi porti su. Pog, il podcast, è quella chiacchierata tra amici nel bar di una vita, è quando sei immerso nei pensieri e vorresti solo staccare la spina. È quel targitto in macchina, talvolta infernale, che sai già benissimo con chi lo vuoi passare. È quel bicchiere di vino che mi tanto ti concedi ma che in compagnia ha tutt'altro sapore. Io sono Alessandro. E io sono Daniele. E questo? Questo è POV. Il podcast. Ma ancora, ma io ripeti. Ciao. Hola. Hola. Cicchenteria, chi oggi così? Sono nella settimana spagnola, tipo la Lidl, capito? Da come se ballerina avrei detto settimana bianca, mo. No, la notte è bianca. Siamo tornati a lo snowboard. Allora, intanto, altro che freddo, io ho una paura che, no, non so cosa dire a riguardo perché non vorrei venisse troppo caldo, perché io odio quando è estate, c'è l'estate romana, raga, scappate. Guardando tra i miei peli e i tuoi, secondo me facciamo delle gocce di rugiada che ha confronto Elisa con gocce di memoria. Giorgia, amo, non Elisa. Amo. Io sono delisato crime. Ciao, ciao Elisa. Un saluto. Le sue di gocce, esatto. E puntatona oggi, puntata di Potevi non saperlo. Sai, dicevamo prima, io mi sono disabituato a fare la puntata con te e basta. Parliamo di ospiti, facciamo cose e ho deciso che non ti voglio più. Devi un attimo volare basso, amo, perché come dice il mio sticker su WhatsApp, in alto volano schiaffi. E questo potrebbe essere il modo principale per inventarci la litetrammette per fare views. Ma molti pensano che abbiamo bisogno di un pretesto per litigare. Non è proprio così. Mettete una vergine in un taro di una stanza e amore a prima vista. Beh, allora, questo potevi non saperlo, quindi l'introduzione è d'obbligo. C'è sempre lei, no? Amo. Che suz. E questa volta comincio io. Perché l'altra volta mi hai strappato il microfono dalle mani tipo Miley Cyrus, Miley Cyrus. Perché? Che suzza Miley. Ti ricordi Nicki Minaj? Miley, what's good? Quando gli... Alla performance degli... DMA. DMA. Mi sapevo che era stato, sì. Miley, what's good? Allora, la mia notizia di oggi è una notizia un po' friccicarella. Diciamo che... Madonna, mi guardi così perché tu non sai niente. Perché ricordiamolo che questo format prevede notizie che noi ci raccontiamo ma che l'altro non è a conoscenza. Cioè, non sappiamo di cosa parleremo. Però forse lo sappiamo la notizia in sé, capito? Io non so di cosa parlerai però magari l'ho sentita, ecco. O meglio, Ale si è fatto venire lo strabismo di Venere per cercare di leggere il gobo qui sotto. Sei una pazza. Io ti parlo di un'applicazione. Per Android, per tutto. Ok, questo lo sapevo me. È un'applicazione. L'applicazione si chiama TrovaCamporella.com, l'app che ti dice dove andare a trombare. Tu non so se... Allora, partiamo un attimo da un RVM, come dice Maria di Filippi. Ok. Camporella, perché noi ricordiamo che noi registriamo dalla capitale romana e Camporella ha un significato a Roma, che di base il Treccani, perché io ho detto se la devo fare bene, devo rendo orgogliosa la mia insegnante d'italiano delle superiori. Ma sapete una roba, io lo odio, perché lui sta dando l'idea di... cioè praticamente è come se fosse tutto spontaneo, invece ragazzi lui ha pensato tutte le parole che sta dicendo, tutte, l'avrà ripetute otto volte prima di addormentarsi ieri. Ho un po' nella mia testa che si chiama Gabbibbo. Trova Camporella. La Camporella di base è un modo per indicare da Treccani o un piccolo campo, un campicino, no? Il Campidoglio già è più grande, la Camporella è più piccolina, ma andare in Camporella è un'espressione specifica che i romani usano quando dicono che vuoi andare a Chiavà nel verde. Mi vogliono Camporella. Ti vuoi te fratti? Sì, Dante e Virgilio, un po' più coliche. Ok, sì, 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 Paolo e Francesca, però agricoltura style. Con un antistaminico, perché mi si va in Camporella di primavera, le graminacee non aiutano proprio la situa, ecco. Poi di maggio, i pioppi? Ma dove sono i pioppi? Vai. Tu sei allergica alle graminacee? No, zero. Non credo di avere allergie, almeno non manifeste. Detto con un orgoglio? Sì, tantissimo. Perché se fossi stato allergico al pelo dell'animale sarei morto dentro. Cioè non è un deficit enorme al pelo del gatto, del cane. A me non fassi dei pelucchi e degli animali. Cioè io apprezzo molto chi ha animali che magari si preoccupa poi di togliere i pelucchi. Eh certo, è una chiave, altro che... Io non lo faccio. Io ho detto che sono felice per chi lo fa. Perché? Perché sbatti ogni volta, c'ho un uca bianco al massimo di un uca bianco. Ah, proprio per quello. Ciuccia qualsiasi roba, ragazzi. Amo, e a proposito di ciucciare e rotolo, la camporella è perfetta. Perché trova camporella.com, che in realtà magari è interessa anche a tutti voi che ci state ascoltando, perché è un'app che ti permette di trovare tramite indicazioni che qualcuno ha precedentemente dato riguardante dei posti, i posticini un pochino più oze. Ah, tipo TripAdvisor. Esatto, infatti è un TripAdvisor, perché la gente anziché recensì il locale dove la paella non ti è piaciuta, recensisci la panchina che faceva CricCroc mentre facevi CrocCric. Il locus a menus, ok. Questa applicazione mi parte dalla Spagna. Spagna, Italia, i paesi neolatini, se li vogliono fa un po' riconosce. Ma in Spagna questa applicazione si chiama Mispicaderos, che tradotto letteralmente vuol dire i miei maneggi. Maneggi nel senso di cavalli. Quindi torniamo a proprio questa cosa un po' rurale. Cioè, cioè. Alla terra. Andai in camporella, non so le mie posate d'argento, so i miei maneggi. Cioè ci piace comunque l'odore di stalla. E in realtà la cosa divertente è che la camporella è una roba particolare. Io dopo i 25 anni ho cominciato a capire che il letto è l'unico posto dove voglio adagiarmi per fare i fichi fichi. Amo, c'ho le protusioni. Non c'ho più 18 anni che tutto quello che ho è un cuscino e l'erba e vado a farlo dove voglio. Sono stanca. Niente macchina per noi. Zero. In questo caso però l'app è divertente perché tu puoi sia usufruirne, sia inserire dei commenti tuoi personali, sia farti una risata con gli amici leggendo i commenti personali di terzi che hanno lasciato, che indovina un po', è quello che ho fatto io oggi. Io sono andato sul profilo di trovacamporella.com e ho cercato all'interno della zona di Roma i dieci commenti più divertenti che mi hanno fatto spaccare in due. E poi in realtà ho dato una spizzata. Raga, non sono male certi posti. Cioè io voglio dire, mettiti un attimo, ascoltami, tu sei una fuorisede, c'hai una casa, c'hai un partner, e puoi fare, metti che c'hai 18 anni, la Fiat appunto di tu madre che ti ha prestato e una bella fiola, un bel fiolo con il quale vuoi e magari non c'hai casa libera. Trova camporella. Sì ma per chiunque non abbia casa indipendente potrebbe essere un problema. Il discorso dei 25. Un'imitazione perlomeno. Però se mi superi una certa età magari ti dà fastidio. Eh sì. Amo, tu io non ti vedo fa la ginnasta vita parallele. Io ti vedo a confronto, poi mi sei anche sola in toro. Mi monti un gonfiabile? No. Le dieci frasi che mi hanno fatto più crepare. Allora. Tanto ormai posso leggere? Eh però non hai l'effetto di... Ok, no, via. No, ok. Hai ragione. Allora, la prima frase che mi ha fatto crepare è Villa Gordiani. Cioè questo posto qui, perché ti dice anche la zona se tu riesci. Sì, sì. Villa Gordiani. Dal tramonto fino a notte fonda il parco è frequentato da gay, bisex, trans, tranquillo e buio. Quindi ti dice già che queste creature queer si radunano a Villa Gordiani, per chi volesse. Cioè praticamente è un'app per cruising, quelle cose lì. Diriggetevi verso la zona oscura. Lo riconosci perché i gay portano i cappucci quelli da dissennatori, non so se ci sei caso. Daniele sembra l'inizio di un gioco di Zelda. Da tavolo. Solo che amo, tu sei il premio. Cioè, vado. Tu sei l'oggetto privilegiato. Entrate su Via Prenestina. Mi piace perché poi loro ti danno anche delle... Esatto, cioè loro ci tengono. Delle referenze. Sì, sì, sì. Ma attenzione. Secondo me è lì che funziona, capito? Perché ti fa stare lì proprio, ok? Attenzione, il parco è quello che trovate sulla destra. Mi sa che è un malcapitato che mi ha sbagliato parco. E infatti lo specifica dicendo, amo non mi andavo sul sin... Vammi a destra. Ok. L'altra che mi ha fatto divertire è, qui non troverete alcun posto. Lui lo dice, cioè... O forse è un non luogo, capito? Cioè proprio per definizione. Ma troverete migliaia di utenti alla ricerca di qualcuno di speciale, con il diritto di strofinare o cadere. Vedi? Ve l'ho detto, raga. Cioè, oltre... Non è solo un trova un posto, è anche trova un partner, sta roba. No. Oppure trova il guardone. Ah, magari a te ti piace essere guardata. Oh, che te posso dire? Che te devo giudicare? La cosa che mi fa schiattare è il cadere. Cioè, avete mai fatto caso quando alle superiori, tipo, la vostra amica di turno vi diceva... Sono andata con l'ex di quello e tu fa... Ci sei caduta sul cazzo, eh? Mi fa morire il fatto che... Ma... Mi fa morire il fatto che... Non l'avevo sentita arrivare. Cioè, poi, cade o strofinà, come per di... Nel caso non è trarimento, se ci vai, no, con l'intento. Il parcheggio è ben interzo, il parcheggio è ben isolato e illuminato al punto giusto. Nel senso, noi siamo i primi che cerchiamo in studio una giusta illuminazione. Io se mi chiamo a una persona, voglio vederla in un certo... No, o luci, o ombre. Sì? Tu sei tipo da buio? Ma non lo so, cioè, non ho una preferenza specifica. Però era un troppa luce, sicuramente. Beh, ah, ma... Sbaglio. Nel senso, se voglio troppa luce, volevo vado a fare sul sole, la trombata. Nel senso, eh... Se sei... Quando sei spiaggia, capito, di notte, la luce forse è quella adatta, capito? Ah, ma perché è quella naturale, amo. Eh, ma ci credo. Andiamo avanti. Perfetto in qualsiasi ora del giorno. Lui te lo dice. Nel senso, non so se sei winter... Ma che senso? Se sei spring... Ma parliamo di che luogo è questo? Non lo sappiamo. Caffarella. Ce l'ho. Ma dai! Caffarella. Perdonate, perché alcuni luoghi li ho segnati. Perfetti in qualsiasi ora del giorno. Basta mettersi bene in mezzo ai cespugli. Lui ti dice anche... Oh mio Dio. Ma che spazio. Fate spazio. Ma è consigliato portare un telo igienico. Ma per nascondersi o per stendersi? Capito? Perché qua non lo so ai cespugli. Che sta facendo? Avrebbe consigliato mimetico, secondo me, se era per nascondersi. Basta mettersi bene in mezzo ai cespugli. Luogo molto coperto in cui nessuno passa mai. Pulito. Easy. Lui l'ha provato altre volte. Ok. Numero 5. Giacilio Superlusso si chiama. Ecco, qui ho capito che qualcosa non andava bene. È tipo il titolo della recensione. Amo, questo è un Airbnb. Te lo posso leggere? Vai. Comodo Giacilio in paglia, con romantica vista sul fiume. Attende gli avventori, con possibilità di appartarsi in un'auto di lusso riadattata a grand hotel, con sedili reclinabili e, in caso di freddo, coperte in lana sul sedile posteriore. Il tutto sotto le stelle, a due passi dalla metro. È tipo... Cioè, queste hanno fatto una macchina che potete andare a vedere, perché ci sono le foto, come se fosse un Airbnb dove andare a trombare. Cioè, tipo il Love Hotel, versione italiana. Hanno preso una macchina in disuso e l'hanno riadattata a Airbnb. Cioè, ma dimmi se questo non è del toro. Beh, e le chiavi poi la chiudiamo la macchina o è libero uso? No, soprattutto qui ti dice vicino alla metro, che se vuoi una trombata entro alle 23.30... Facilmente raggiungibile. Qui ti dice per auto muniti e no. L'auto ce l'avete. È l'ennesimo... Eh? Dov'è questo? Questo non te lo diceva? Ti diceva la zona, ma non ti diceva bene. Secondo me è un enjoy. Ti mangio. È tipo l'enjoy, però un altro tipo di enjoy, capito? E se fosse un tassista che ti vuole far vivere quell'esperienza che appena sali in macchina gli fa... E non sei più free now adesso, sei busy. Non ho soldi sulla carta. Un'altra, e la sesta, una volta ci ho scopato sulle panchine, stai sotto la strada, ma la cosa assurda è che poco distante c'era un'altra coppia all'altra panchina. Nel senso... Alla francese, così? No, nel senso, sei anche un po' pretenzioso che sei l'unico che ci fa scoparla. Cioè, è ovvio che c'è quest'altra gente. Ma dove siamo andati? Tutto questo è praticamente il deep web, come si chiama? Ma che deep? Questo è... È proprio la... No. È in più in superficie di quello che pensi. Non possiamo dire che è la luce del sole, perché questa gente si nasconde tra cespugli. Però, qui ti fa notare che abbiamo persone un pochino più alla Jacob e altre un pochino più alla Edward. C'è chi gli piace la penombra del vampiro e chi gli piace il sole del tuo. Brillare. Allora, ora arriviamo alla parte un pochino più interessante, che secondo me deve essere anche un po' un monito per tutte le persone che ci ascoltano, perché glielo dobbiamo. La settima recensione che ho visto è in un negozio. Non è andare a Camporella, ma il negozio che consigliano dove andare a trombare è Scarpe e Scarpe. Che è una brand... Oh mio Dio, sì. Amo, non hai idea. Ci scrivono, o meglio, ci scrivono io, scrivono. Negozio ampio, privo di telecamere e con molti commessi, e con pochi commessi. In genere mai pieno. Si può tentare l'incredibile facendo tra gli scaffali. Consiglio l'angolo in fondo reparto calcio. Oppure nel camerino si sta tranquilli. Però qua per feticisti. Cioè poi c'è l'ennesima, capito? Ale, ci chiediamo tutti. Dov'eri la settimana scorsa? Al reparto Scarpe? E perché? Hai quelle nuove infradito. E perché ti sei comprato quei tacchetti da calcio quando l'unica palla che hai lanciato? L'ottava, siamo al rank 10. L'ottava è via residenziale. Te lo metti in conto. Magari siamo in centro, via dei serpenti, mi vedi a Pifebo e poi mi sfoggi l'Avitas nuovo. D'inverno e quando cadono le tenebre è molto poco frequentata. L'ho voluta mettere perché mi ha dato una terzina dantesca. Le tenebre, mi piace questa cosa un po'. Ideale per scambi e diffusioni. Lui mi è piaciuto perché è l'unico che non dice scopare. Sì, sì, è rimasto più oggettivo. È l'utente di TripAdvisor che ti fa non solo il commento su come sei stato trattato, ma analizza. Che ti dice, buono ma il tagliere è un po' piccolo. Buono però, c'erano pochi formaggi. Quanto abbiamo aspettato? Quattro puntini. Beh, si spera. Diciamo che lì il tempo d'attesa ha più e lungo. Point of view anche lì. Esatto. Passiamo alla nove. Ampio parcheggio e discreto. Quello che tutti cerchiamo da un parcheggio, dopo tutto. Preservativi a terra, quindi ottimo posto dove si può stare in serenità. Nel senso, qui il preserva... C'è da raccoglierli? No, no, no. Non li devi raccogliere perché sono la testimonianza che qui c'è stato qualcuno. Che sono scioccato. Amo, perdonami. I modà era un tappeto di fragole. Qui è un tappeto di preservativi. Chi sono io per dire che non è una canzone della Sanremo? La dieci, con la quale concludo le tappe recensioni, mi ritorna Scarpe e Scarpe. E Scarpe e Scarpe non solo mi ritorna, ma si palesa. Scarpe e Scarpe dice, sempre io, Mauro. Tieni attento a quello che dici, questi ci fanno causa. No, no, Mauro chi? No, per carità, Scarpe lo fa. Mauro, oltre tutto ci fai causa, l'hai pubblicato su TripAdvisor, su TripAdvisor, su... Pensa se si sbaglia, c'è ha aperto Camporella e TripAdvisor, diverse finestre del stesso browser e tra le cose, cioè tra una patatina fritta e una pinza romana, invece ha fatto il commento sul letto di preservativi. Ho capito, a guardare le nuvole su un tappeto di pressure. E l'ultimo, sempre io, Mauro, stessa catena, luogo diverso stavolta, perché comunque Mauro mi va ad esplorare. Si può tranquillamente fare tra gli scaffali anche qui, in fondo a destra c'è uno scaffale in cui sono riposti i scarpini da calcio, il calcio che mi ritorna, secondo me Mauro ha questo comporso tipo... Ha letto il commento, c'ha capito? No, sempre io, Mauro. Chi è il primo? E no, è sempre lui. Però la prima volta non si è palesato, un po' un Batman delle ombre. Ok. Batman degli scaffali, direi. Sì, ma è Mauro che gira. Sì, sì, vabbè, lui conferma la sua idea, vuole convincerci. Ma Mauro ci porta ancora più dentro questa cosa, dicendoci, ecco, lì dietro, a parte quel ecco così enfatico, lì dietro troverete un angolo incredibile in cui fare quasi tutto. In quella zona sono riuscita a masturbarmi tre volte venendo all'interno degli scarpini esposti, ha ha ha, e scoparci una volta. Signori, Mauro, sei ospite di pop. Immagini! Ti immagini il pop che ti hai fatto causa da Mauro? Mauro, scrivici in privato. Io mi immagino questa diva che va da scarpe scarpe e fa, devo comprare dei tacchetti per mio figlio, sono un po' umidi. Dai, Daniele, per favore! Ma li tenete in una zona umida? No, ma questo, non mi immagini se ma stamattina mi ha comprato i calzi, gli scarpini che vanno dentro, le cose rimane. Ah, ma però sai che ogni tanto il piede mi parla? Eh, è capito! E mi fa papà, e io faccio continuo come? Sato qui! Che cazzo! Allora, in tutto ciò io farò la parte un po' più istituzionale, sarò? No, no, tu fai la parte di quella schifata che poi appena ci saluti fai camporella.com No, completamente. Anche se, ti dico, la premessa era la ruralità. Era il... Io sentivo il fieno, sentivo l'odore animale, il sudore. Invece questi parlano di scarpe, di macchine, ragazzi. Volevi la ruralità? Scrivono come dei contadini. Nel senso, non azzeccano un verbo e soprattutto... Ma poi dico io, ma per una recensione, ma vuoi imparare l'italiana almeno? Che se ci devono andare a trombare, la vuoi rendo appetibile? No, ma questa forma è scelta, è una scelta poetica perché ti dà l'idea, l'italiano parlato, scritto come parlato, ti dà l'idea di essere lì. Cioè, questo è un tuo amico che ti fa una confidenza, capito? Io ve lo dico a voi, sta giustificando un po' troppo Mauro. Io non vorrei... Posse Mauro? Posso dire... Amo, non ti ho mai visto te degli scaffali di calcio nella stessa... Io non... Comunque, con Mauro parleremo ovviamente non di calcio, non di scarpe, ma tipo che ne so, di riscaldamento globale, non so se sei d'accordo. Guarda, ti dico soltanto che scrivendo questo articolo mi sono sentito un po' le iene, capito? Con noi, col microfono. Mauro, Mauro puoi dire qualcosa, Mauro? E, Mauro, quei bambini indossavano quelle scarpe e, allora, ho fatto, oltretutto, una classifica. Ho fatto una classifica perché mi son detto, io voglio un attimo capire queste camporelle dove mi vanno per la maggiore. ignorantemente pensavo, Roma, Camporella, no. Amo, alla prima posizione c'è Chiara Crespi, volevo dire Lombardia. In Lombardia ci sono 916 punti Camporella, amo. La Lombardia è prima. Avete tanti McDonald's, non solo. La seconda è il Veneto, con 492, con un distacco enorme dai 916 della Lombardia. Oh, Silvio, facciamo qualcosa per queste persone che vogliono trombare in provincia di Assago? Ma sono un po' perdi, possono? Eh, vogliono fare quello che vogliono. Il Nord mi è un po' torbido, anche perché alla terza c'è il Piemonte, con 266. Quindi il Nord è da padrona? Ma che cavolo? E poi parliamo dei sardi che fanno le schifezze, no, con le cose là, animali. Cioè, vedi, no, ragazzi. Lui parla dei famosi pecore sarde quando i contadini stavano tanti mesi fuori. Ale, Ale, ci hai mai dormito insieme? No. Quando dormi fa, beh, che io gli facciamo? Oh, 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 stai con me, stai con me, stai con me, stai con me. Al quarto posto ce l'ho voluto mettere il Lazio, che ha 195, quindi tanto camporellisti non siamo. Perché rispetto ai 917 della Lombardia... E tra l'altro 192 saranno a Roma, cioè, capito, una cosa del genere. Dai, rieti. Le ultime tre, ho voluto fare, le prime tre e le ultime tre. Al terzo posto Basilicata, con 24. E vabbè. I Lucani, 24, ma anche perché c'è sta niente dappertutto e se trombi qualcuno a casa pure se urli chi cazzo le sente. Molise, 5, tutti e 5 alle isole Tremidi probabilmente. Perché dove cazzo i metti? Campo, sì, Campo Cavallo. Camporella, amo. Camporella, Camporella, Campobasso. Valle d'Aosta, una. Vabbè, amo. No, perdonami. Sono in 800. Ci sei tu e Babbo Natale. E' capito. E' Valle d'Aosta. Chi cazzo te guarda? Ma poi è andata dappertutto. Menzione speciale. Perché tu non lo sai? 75% di ascoltatori nostri sono di Osta. Sì, insieme a Chiara Facchetti. No, Chiara Facchetti. E lei è di Osta, no? Veramente? Lei dice sempre che sta a Osta, no? Non ha fatto male, raga. È uscito poco sangue. Quando si è fatta il septum, morto. Ciao a tutti. E menzione speciale, essendo io e te marchigiane, le Marche. Le Marche al quarto ultimo posto. Come Lazio mi torna questa cosa? Con 37 posti. Ne ho visti 35 a Castelfirardo. Amo. Ora. Che siano tutte tue. Perché una ce l'ha scritto. Luogo appartato per ragazze gattare. Ho detto. Che succede? Ma è l'Alessandro? Non lo so. Comunque, la camporella è questo. Mi raccomando, però, potete farvi una serata di bevuta tra amici e leggervi i commenti. Potete bere con una persona e portarla in camporella o potete guardare. Allora, ti voglio concludere questa notizia verde. Ma la puntata? Cioè, saremo tipo a 20 minuti passati. Tu sei un po' indispettita dal fatto che non ti ho fatto parlare. Hai sentito? E amo, ma quando vai in camporella, gula a te tu, sorella. Questa ricerca l'ho fatta un attimo convergere. Perché dopo TrovaCamporella.com mi sono detto. Ma perdonami, fammi fare due passi avanti innanzitutto perché mi è santo scomoda. Mi sono detto. Ma scusami, esisteranno app del cazzo, no? Di quelle che la gente crea, probabilmente sotto psichedelici? Una ce no. Cioè, perché in realtà c'è Camporella, ma c'è anche l'app. Grindr? No, c'è l'app. TrovaVersatile.com No, uguale. Planet Romeo? No. Tinder? No. Growler? Guapa? Mi c'hai visto la scema! No, volevo dire, c'è la stessa cosa di Camporella, ma con i bagni pubblici. Ma che dici? Non scherzo, tu puoi recensire, cioè, com'è la situazione nel bagno pubblico X. Quindi, ragazzi, andate tranquilli, pulitissimo. Ma non ne avevo idea. Questa roba utile, però. Sì, soprattutto se sei una ragazza un po' pulita come te che, no, non faccio la pipis, a costo di farla dagli occhi e piangere, non faccio la pipis. Completamente. Quindi, ecco, la prima app che, secondo me, sia assurda ma utile è proprio questa. Il TripAdvisor dei cessi. Qual è la... Ma non mi ricordo l'opera. Qual è la rima? Se vuoi evitare la ricottina, tienila stretta, la tua pipina, il pipì. Perché amo, nel senso, la candida è un attimo che ti appoggi in un posto dove non vuoi e ti esce. Quella è... Noi dobbiamo fare un podcast family friendly. Tu ora dimmi come presentiamo. Pure le famiglie, Pia, la candida, eh. Cioè, nel senso... Ma sì, ok. Però dite alla camporella, alla famiglia. Beh, sì, mi auguro che per essere diventata una famiglia qualcuno è andata in camporella. Eh, 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 Gianmarco, sei nato così. Le app più strane. Sì. Ne ho trovate cinque, ok? La prima si chiama My Virtual Boyfriend. Ok, di base. Per Android e smartphone, quindi... Per tutte e due, chi volesse. L'app dove ti puoi creare il fidanzato come se fosse un tamagotchi. Ci puoi parlare, scoprire cosa gli piace, la sua personalità, supportare le sue battute, cioè più di quanto fanno coppie vere, cioè nella vita reale, fare complimenti, flirtarci, puoi fare mini golf con lui, ballo, cene, e hai anche delle interazioni fisiche. Perché tu puoi toccarlo, fargli solletico o schiaffeggiarlo se si comporta male. Ma ti dirò di più. Ma ti dirò di più. Tu puoi fare... Hai cento ragazzi che puoi praticamente tipo sceglierti un po' il prototipo, ma tu puoi fare una foto ad una persona e attaccarla sopra la faccia di que... Ale, tu puoi finalmente avere il tuo rendezvous con Borghi. E ho capito. E puoi averlo davanti a te e fare... Ale, diciamo che c'è una cosa, una cosa fondamentale nel mio rendezvous con Borghi o chi ti pare, il consenso. E questa cosa non è di consenso. Perché la foto... Lo crei tu il tabagocci? Cioè non ti voglio dire... Lo so, ma la foto magari la fai pure lui che non si accorge. No, 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 la foto devi farla dalla telecamera, quindi mi devi andare comunque a un bit and grit con Borghi. Però, ottimo, su questo ok, umili, cioè nel senso che comunque danno un'occhiata, ma il patriarcato è distrutto. A parte quello, però ti dicono, tu mi puoi, Gianmarca, mettere la foto del tipo, ma l'app è pagamento? Cioè, quanto mi sei infissa col tipo per spendere c'è soldi? Offrigli una scena a sto punto, prendiamo coraggio. Via, dall'online all'offline, sì. Abbiamo poi un'altra app, l'altra che ho trovato molto divertente, che si chiama Milk the Cow. Non devi dire nulla. Esatto, c'è la faccia di Ale. Devi mungere una mucca, ma il problema di questo gioco è che la grafica è iper realista. E da essere quasi disturbante, tu devi riempire un secchio di latte nel minor tempo possibile mungendo questa mucca. Mamma, tu immagina che si è aspettato madre, Mara, all'MA o all'Inz, e sta in macchina a giocare a Milk the Cow e passa alla vicina che fa male. Quel ragazzo è sempre stato un po' una mucca. Non lo so, a macchie, non lo so, chi lo sa. La terza secondo me ti farà ammattire, si chiama Die With Me. Die With Me, intradotto muori con me. È sia per Android che per iPhone, è una chat molto speciale in cui si può chattare con persone a caso nel mondo, ma ha una condizione. Devi avere la batteria al 5% o meno. Cioè, se tu hai la batteria al 5% o meno, tu puoi chattare con le persone che stanno lì. Ok. Ma se la batteria ti supera, vieni quittato dalla chat. Cioè, tu hai trovato l'amore vero in Cambogia. Ma... E gli fai, ti ha... 6%, amo. Cioè, allora, questo è... 6%. Mamma mia. È fighissima. Allora, intanto chi l'ha pensata, non so se dirti pazzo o genio. Chiara Crespi, probabilmente. Che ha sempre il 5%. Continua a romanticizzare qualsiasi cosa, facciamolo anche con la batteria. Quindi no, e ti posso dire, l'idea, wow, dall'altra però veramente... Ma metti caso, c'hai una conversazione un po' più di spessore con qualcuno. L'angoscia. Ma di spessore emotivo o camporella? Qualsiasi cosa. Vabbè, lo spessore ognuno decide quale. Amo, allora dammi il numero prima. Cioè, mentre sta scadendo, dici, scrivimi qua. Anche perché, poi, Die With Me è a pagamento. Mentre Die With Friends non è a pagamento, ma sei un pochino più scialla a quei tempi perché hai il 15% di batteria. Ok. Però non ho il brivido. Non ho il brivido, capito? Eh, però se sei sotto il sole, che ne sai, lo scolo schermo dominato al massimo... Queste cose ti penso. È un attimo. Esatto, capito? Cioè, il mio è un attimo, veramente. Prima 15 poi 0. Ogni volta che stai al 4% lo devi staccare. Cioè, tu stai là col caricabatterie che, veramente, il mio padre mi tirava una pizza che l'elettricità la paga lui. Un'altra si chiama SMTH, Send Me to Heaven. È, per Android e smartphone, ci tengo a specificarlo, perché tu lo sai che la POV Crew è fatta da 3 iPhone e un Android. Xiaomi Mi 9T. Io supporto l'Oriente. Send Me to Heaven, letteralmente, portami in baradiso. È per Android e per smartphone. È un gioco in cui bisogna tirare verso l'alto lo smartphone, cercando di mandarlo il più in alto possibile, con dei sensori che ti calcolano l'altezza. Ma c'è una modalità, compagni. Cioè, se siete un gruppo di deficienti, potete mettervi tutti quanti insieme a tirare i telefoni per aria. Ehi, dude. Ma Ale, perché oggi pomeriggio ti diamo il telefono in aria? L'ultima è l'app che io vorrei scaricare sul tuo cazzo di telefono. Si chiama Reply ASAP. Ok. Per noi monelle rispettose è un'applicazione che bisogna essere in grado di installare nel telefono del malcapitato in questione. Quindi, oltre ad avercela tu, devi vedere la vittima. Ok. Però, nel senso, Pasquala, noi lo sappiamo che tu sul telefonino di Stefano ce l'hai messo Reply ASAP. E cosa ci fai con Reply ASAP? Se tu lo metti come impostazione e tu mandi un messaggio, la persona è obbligata a rispondere e il messaggio diventa grande. Quanto tutto lo schermo, il telefono comincia a fare squilli a gogo. E comunque, Reply ASAP è un'app che è fatta per i figli. Cioè, per i genitori, per avere il max control sui figli. Che finché... no, cioè, capisco. Tu da genitore mi capisci. Che ne so. Io lo farei così. Non so da che parte stare, se da parte di genitore o parte di figlio. Più che altro, se la trasliamo su questione madre-figli, padre-figli, vedi la più sul fidanzato, no? Che ti gioca la play. Ti gioca la play di continuo e tu puoi rompergli il cazzo. E secondo me è una cheat fondamentale, iconica del trillo di MSN. Cioè, è un po' l'estensione massima, capito? Ripeto, le marche sono andate, cioè, zona terremoto, a causa di tutte le persone marchigiane che usavano MSN. Però non è un caso che i trilli, è una cosa che nelle chat di oggi, spariti... Si sono persi, ma perché erano fastidiosi? Cioè, è proprio oltre la logica, capito? Che ti devo dire. Ma allora, abbiamo concluso questa disamina lucchissima sulle app un po' strane delle camporelle. Avete, voi pubblico, imparato una cosa fondamentale. Cos'è la camporella e come agire a riguardo, non so. Diciamo che se notate degli stacchi un po' particolari è perché Alessandro mi lantava un'urina, che secondo me qualcuno si è scaricato, trova camporella. Ma è una mia idea, mia. Tra l'altro, ti vedevo così tanto infervorato, così dentro la notizia, di così tanto spessore, che ho detto, ok, la notizia mia di oggi la abbandoniamo. Vi lasciamo questa lunga puntata tutta a tema. Dentro, notizia. Comunque, torniamo sulla camporella. Oh mamma. Ti rendi conto, dopo le palle dei gatti che scendono, adesso abbiamo pure le camporelle? E capito? Bravo Ale, bravissimo. Facciamo le camporelle per gli animali. Bravo! Le camporelle per i gatti, capito? Per dici, potremmo fare cool, tipo per i pedigree, capito? Vuoi il cucciolo di razza? Incontriamoci laggiù, in fondo. Mi sanno dei guardoni poi i gatti. Ti posso dire che si mettono là con quell'occhio languido che ti guardano dall'istante. Sì, alle fammi anzi. Tant'è che tutti quelli che hanno gatti in casa e durante l'adolescenza hanno scoperto il loro corpo, lo gatto sembra tenerlo fuori. Il bidet, poverino, faceva. Eh però, mentre scopro almeno, vuoi vedere un animale che fa il bidet. Allora, quindi niente ragazzi, noi ci ascoltiamo e ci vediamo domenica prossima, come sempre su Spotify, Apple Podcast e Amazon Music. Alle 15, l'abbiamo detto? No, però l'hai detto tu, tutte le domenica alle 15 e niente, seguiteci sui nostri socials e... Instagram e TikTok. Raccontateci delle vostre esperienze in Camporella. Esatto, che magari ne avete, mo non volete aggiornare il sito? Aggiornate noi, noi andiamo in Camporella. Valutate, valutate, ciao. Potrebbero anche loro magari darci un'opinione, una proposta di Camporella, nuova, uno spot. Oh, e avete app strane? Consigliatecele, perché io Milk the Cow me la faccio, amo. C'ho una voglia di latte, non hai idea. Andiamo a mungere.